Il mondo dello spettacolo è in fermento a causa delle recenti indiscrezioni sulla fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con un inaspettato coinvolgimento della schermitrice ed ex concorrente del grande fratello VIP, Antonella Fiordelisi. Secondo fonti vicine alla situazione, sembra che Antonella Fiordelisi abbia deciso di intraprendere vie legali nei confronti della showgirl argentina Belen Rodriguez. Le ragioni dietro questa mossa legale non sono ancora completamente chiare. Ma alcune indiscrezioni suggeriscono che possano essere legate a questioni personali e controversie sorte dopo la rottura tra Belen e Stefano De Martino, alcuni osservatori suggeriscono che potrebbero esserci questioni riguardanti dichiarazioni pubbliche, comportamenti o eventuali questioni finanziarie che potrebbero aver portato Antonella Fiordelisi a prendere questa decisione legale. Tuttavia, al momento, non sono disponibili dettagli specifici sulle accuse mosse da Fiordelisi. La notizia della denuncia ha suscitato curiosità e sorpresa tra i fan e gli appassionati di gossip, mentre l'intera vicenda continua a tenere con il fiato sospeso il mondo dello spettacolo italiano. Si attendono ulteriori sviluppi e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti coinvolte per gettare luce su questa nuova e inaspettata svolta nella vicenda della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.